Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maul941 e oggi per il video mattutino siamo su Paper Please, signori miei Ieri dovevo uscire il live ma abbiamo cambiato i programmi e quindi andiamo avanti a mo' di video con Paper Please Detto questo ragazzoni non perdiamo tempo e continuiamo la modalità storia e vediamo cosa succede Ok, rivoluzione della chirurgia spinale, le migliori elementi di Astosca dietro la scoperta, sede governativa evacuata al Paradizna C'è il segno di Ezine ragazzi, c'è il segno di Ezine perché l'ultima volta abbiamo fatto passare il tizio che doveva salvarci le natiche Vediamo se le cose funzionano oppure no 7 dicembre 1982, eccoci qua bellissimi che stiamo entrando nel nostro casotto, le guardie prendono posto Ok, allora questi sono i ricercati di oggi, queste sono le fogliette che dobbiamo dare agli ingegneri Quante ce ne sono rimaste? Non ce ne è rimasto più nessuno Allora, qui non dovremmo più avere nessun tipo di problema di questa cosa Datemi il mio bellissimo libretto, lo mettiamo qui, sistemiamo tutto quanto l'ambaratan E partiamo raga, partiamo, partiamo Io non ho visto, porca miseria, no Documenti prego, ok Scopo del viaggio, intendo lavorare, ok Durata del soggiorno, resta un anno Allora, femmina, cicciosa, è una dei ricercati? No raga, non dovrebbe essere una dei ricercati, no Nessuna correlazione, infatti non è una dei ricercati Allora, viene dall'Obristan, mappa delle regioni, Obistan, Obistan, la regione, documento rosso, va bene Lord Nuzz, perfetto, perfetto Qui ci siamo, qui ci siamo, femmina, documento è valido Ok, controlliamo questo 1,73, ci siamo, più o meno 76 kg, sovrappeso, ma poverina, il 20, 12, 82 Il 20, 12, questo è valido, perfetto Poi controlliamo questo Ovvero, Natalia, Natalia, Natalia Don, Don, Bravuska, Don, Bravuska, ok E7, OH, E70, H5, 9, Q, W, B5, ok Lavoro, perfetto, un anno 30, 12, 82, e questo è pure valido Vediamo, vabbè, dopo lo controlliamo Questo, dopo lo controlliamo Controlliamo il foglio di lavoro Statista, Natalia Natalia Bomb, Bomb, Dom, Dom, Robuska Dom, Robuska, di 611, 84 Perfetto, controlliamo se i timbri sono giusti Raga, permesso d'entrata, questo va bene Permesso di lavoro, documenti, foglio di lavoro Questo qui c'è, questo qui c'è, sì, perfetto Vabbè, raga, c'è tutto in regola, c'è tutto in regola La possiamo far entrare, mamma mia E' diventato un casino controllare tutti i documenti Praticamente, penso che dovrebbe essere tutto quanto in regola Poi non lo so, avanti il prossimo E' prossima Mi ha preso a mente, no, meglio così Mamma che brutta questa, documenti prego Morta da Stosca Che cazzarola è? Raga Raga, c'è un problema Raga, c'è un problema, che succede? C'ho una bomba davanti a, ah, sì C'ho, che cosa è questo schifo da direttanti? Dobbiamo evacuare Per robetta così? Certo che no Disattiviamo, apri coperchio Apro coperchio Raga, siamo nella cacca, siamo nella cacca, raga Siamo nella cacca, ok, stiamo calmi, stiamo calmi Stupido terrorist di odio, non ne ho nemmeno messo schermo Ma cosa devo fare ora? Questa è bomba peggiore che ho visto Proprio da scemo Taglia fili in ordine giusto Taglia fili in ordine giusto Uno, quindi questo Due Questo Tre Questo Quattro questo Bene fatto Torniamo al lavoro Mamma mia Dobbiamo chiudere il presidio Stonzate, oggi devo guadagnare Dai, bomba a me Vendo materiali Do percentuale a te Ma che cosa? Va bene Va bene Raga, va bene Va bene così Che ferraglio Penso che non aveva molto Chiamo al prossimo immigrato Raga, mi sono un attimino Fatto Va bene Va bene Mamma mia Mamma mia Questa è ricercata? No Scopo del viaggio? Visita amici Durata del soggiorno? Un paio di mesi Va bene Allora, visita amici Mamma mia che brutta Mi sembra la ricercata Per caso è la ricercata Con questa donna? Nessuna con relazione No, io ormai vedo ricercati ovunque Raga Allora, federazione unite Mappa delle regioni Viene dalle federazioni unite Da Creat rapid Perfetto Ci siamo Femmina Il 6584 6584 Il documento è valido Va bene Controlliamo questo Capelli lunghi Ci può stare 50 kg Per 1,68 1,68 Senza capelli va bene 16,12 82 E questo va bene Controlliamo questo Allora A A T La A T La A T La Ride Con l'H Ok 2 L Q 52 H 94 9 U Perfetto Visita a due mesi Che aveva detto? Visita a mesi Un paio di mesi 24 12 82 24 12 82 E' valido Controlliamo se è il permesso di entrata Questo simbolino E c'è raga Mi sembrerebbe tutto in regola Penso che sia tutto in regola raga Penso Poi non lo so Penso che sia tutto in regola Non creare problemi Avanti I prossimi I prossimi Sembra molto Non so perché Mara Maionchi Che urla così Documenti Scopo del viaggio Lavoro Ok Durata del soggiorno Vengo un paio di settimane Maschio Da anticheria 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 Outer Outer Grose Perfetto Questo è valido Il 27 2 84 Il documento è pure valido Sembra abbastanza pelatone Pollice Calvo 82 kg Per 1 81 Ci siamo Quando respira Più o meno ci arriva 1 81 Va bene Il pollice 11 12 82 Questo è valido Va bene Perché cosa viene lui Scusate Lavoro E dov'è il permesso di lavoro Dov'è il permesso di lavoro Raga Scambio di domenica Armi sono venite Di pronostitazione Stradine Foglio Lavoratori Sono con foglio di lavoratore E infatti Dov'è il foglio di lavoratore Oddio Ah si scusate So scemo io Me l'ho messo qua So scemo io Ok 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 Foglio d'entrata Allora Non togliamo questo Johan Johan Poliziovski Poliziovski 7x8HK P8840 Perfetto Lavoro 6 mesi Ha detto un paio di mesi Lavoro Un paio di settimane Un paio di settimane Non sono 6 mesi È metà anno Nessuna correlazione Ma 6 mesi Non è Non è Scusatemi Ma 6 mesi Non è Allora Facciamo una cosa Facciamo così Dura del lavoro Un paio di settimane Non sono 6 mesi In congruenza rilevata E appunto Dov'è dato il soggiorno Diversa Sì Certo Rimango 6 mesi Va bene Allora Allora ci siamo Allora ci siamo Va bene 281282 Questa è regola Lavoro 6 mesi Perfetto Cosa fai? Ingegnere Ingegnere Beccati questo 1783 Va bene Joan Poliziovski 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 Va bene Va bene Controlliamo che i timbrini Ci siano Siano giusti Signori miei Controlliamo che i timbrini Siano giusti Permesso d'entrata E va bene Foglio di lavoro Documenti Foglio di lavoro E questo qua c'è Boh Raga mi sembra in regola Gli abbiamo chiesto del tempo Ma ha detto 6 mesi Quindi Dovrebbe essere pure lui Tutto quanto in regola Speriamo Il prossimo Era un bellissimo ingegnere Gli abbiamo dato Il timbrino del da ingegnere Questa Scopo del viaggio Mamma che brutta Per caso Ho lavoro qui Rimango 90 giorni Allora viene da Anticheria Mappa le regioni Anticheria Da Glorian Glorian Ok Il 6684 Va bene Non è nessuna ricercata Allora questo ci siamo Vediamo questo Allora Capelli cortissimi 53 kg Per 1,69 Sì Ci siamo Allora No Questo mi serve Questo possiamo lavarlo Questo Allora Noelle Dov'è? Noelle Soraya Soraya Ok HCP KQ MA JP8 Ok Lavoro 3 mesi Quanto aveva detto? 90 giorni Va bene E il 2183 Questo è valido Controlliamo questo Ristorazione Noelle Noelle Soraya Soraya Ristorazione 1483 Va bene Vediamo se i timbri Sono giusti Raga Che non è con questi timbri Rischiamo pure permesso d'entrata E va bene Permesso d'entrata Va bene Vediamo i documenti Foglio da lavoro E va bene Anche il foglio da lavoro Perfetto Anche questa può entrare Raga Anche la zia può entrare Vai zia Vai zia È tutto il regolo Non abbiamo arrestato nessuno Che cosa terribile Non crea problemi È entrata una garantita Dai dai Prossima Dai 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 Oh hey zici Documenti prego Cazzarola Dai i miei documenti in codice Oh scusami Entrambi Ok Che è successo Lei zici Hai fatto bene Entrambi gli agenti Ora operativi Il ruolo dell'ordine È mutato dalla nascita Stosca Quando la tirannia finirà Svaniremo di nuovo Va bene Va bene Va bene Abbiamo fatto bene Il nostro lavoro Raga Non so quanto possa essere Un buon lavoro Quello che abbiamo fatto Però abbiamo fatto bene Il nostro lavoro Ma non abbiamo arrestato Nemmeno nessuno oggi Documenti prego Scopo del viaggio Il lavoro qui Questa è ricercata No Rimango metà anno Allora Viene da Impor 13184 Mappa le regioni Impor 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 Echio 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 Va bene Questa è regola Non ho nessuno Ne ha ricercato È vero No Ma perché non mi hanno fatto Arrestare nessuno oggi Capelli ricci corti 64 Un metro e 64 Ci siamo Un metro e 64 Con tutti i capelli Dati coincidenti Va bene Per 56 kg Va bene Il 20 12 20 12 82 Questo è buono Si chiama Alexandra Alexandra Terpo 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 Scava Va bene B 3 7 PG J X J X P Lavoro 6 mesi 26 12 82 Va bene Aviazione Alexandra Terpo Mi sembra tutto in regola Vediamo sempre Il discorso dei timbri Permessa d'entrata E questo c'è Documenti Foglio da lavoro E dove è il foglio da lavoro Signori E il foglio da lavoro C'è Boh Anche questa mi sembra in regola Anche questa mi sembra in regola Quindi restituiamo questo Restituiamo questo Restituiamo questo Restituiamo questo Non creare problemi Questo lo vediamo E chiamiamo il prossimo Nessuno ammenda Raga Spettacolo Ma uno da arrestare No Uno da arrestare No Immigra Stosca Allora Questa viene da Lobristanne Mamma mia che brutto Non è nessun tipo di ricercato Sembra quel comico italiano Come si chiama? Non mi viene in mente Allora 7 784 Va bene Questa che tu commenti già 88 1,80 Va bene Baffi Sì Pollice 11 12 82 Questa è regola Questo viene dall'obristanne Mappa le regioni Noi facciamocela con calma Raga Tanto Questo non ce lo pagano Obristanne Città Mergerus Mergerus Va bene Il documento è valido Vediamo il foglio di lavoro Killor Dov'è Killor Dukov Dukov Perfetto K1 G1 S K1 G1 S A 35 2 H Immigrazione per sempre 27 12 Boh Non lo so raga Tanto al massimo mi prendo un ammonimento Ora sul finale Che intanto non mi dà nessuna multa Dai Passa pure te È stato un piacere Ok ragazzoli È la giornata di lavoro del giorno Non mi ricordo quando è finita Vediamo se tutto va bene Il tuo figlio ha bisogno di medicina Mi sarebbe che ha prosciolto ogni accusa di risparmi Non verranno restituiti Ah porca misura 5 dollari Abbiamo 5 dollari raga Che io sinceramente mediterrei Io sinceramente mediterrei Detto questo ragazzoli Io vi ringrazio per aver partecipato a questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Noi ci vediamo giù in giù alle 2 e mezza Per la prima live della giornata Detto questo ragazzoli Grazie a tutti Buona giornata Ci vediamo più tardi sempre qui sul canale Bella raga Ciao